Credevate io fossi a Chicago vero? E invece no, era una finzione, io non ero a Chicago, non ho visto il trailer, non so come si chiama, non so nulla, era solo per farvi rosicare, ho pagato un'azienda perché potesse fingere che io fossi a Chicago e così è stato, ero semplicemente a Ghibullo con Antonio in una bettola, un piccolo hotellino, l'hotel Flavia, fantastico, una stella, però l'avevamo addobbato benissimo, quindi ora, trailer, ho chiuso Facebook, ho fatto un bot che postava le foto, un bot, allora vediamo Play, 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 Lucasfilm, Ansima, chi è che ha Ansima? Cosa c'è? Ray, inizia uguale, uguale, fin, salta fuori uguale, solo che rilassato, respira, respira vivo. Il cerottino l'ha spadino col cerottino, ha messo il cerottino, l'ha aggiustata. Cosa arriva? Sta arrivando un dai, cos'è? Cos'è, una strada, chi è? Se sta concentrando l'ora lì, sembra una duracea in ricarica. Every generation is a legend, come l'ho detto bene, is a legend, gran spiagione, vai. Cos'è? Crostoni? Dove sono qui? Dove sono? Cos'è? Che cos'è? Cos'è sto gas? No, droppa, adesso un... Vuttano un dai! Cazzo, un interceptor! Cos'è? No, è il dai! Chi è quello? Chi è che chiude le porte di sicurezza della coppia? Ma che cos'è? Sato Dio, corri! Corri, ragazzo, laggiù, tenene! No, ti prende! Non capirà! Da! Fut! E la madonna, ma chi sei io? Vuttano la Sara Simeoni! Vuttano il superjamping! Ale, che cos'è questa roba qui? Questa roba lì? Cos'è? Vai, calo! Spaccatutto! Aaaaaah! Aggiusta l'erba! Ma andategli un nuovo, prendete un nuovo sconto su Amazon! Dio, bigliotto! Ale! Lando! Lando, buzzanca! Ma grande! Sta finendo tutto! Basta farsi delle saghe! Ale, jetpack! Ale, astronave! Puttala, i pirati, la medaglia! Ma se sto male? Le lacrime! No! Cosa guardano? Le porte vena! Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè, siete impazziti! Ma cos'è? Ma siete fuori! Oh, trono! Ma mordere! Le meste mordere! Ma siete passi! Ma che stai studi dentro qua! Da! L'imperatore! La ris... Da! Da! Ha 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 ha! Come c'è? The Rise of Skywalker Santo Dio Grazie a tutti